Aiace è il guerriero più valoroso dell'esercito greco dopo Achille quindi quando muore Achille è ovvio che le sue armi vadano ad Aiace però Odisseo riesce con l'intrigo e con il favore dei capi dell'esercito degli Atridi a impadronirsi lui di queste armi Aiace non sopporta questa ingiustizia, non sopporta questa umiliazione ed esce nottetempo per uccidere spada in pugno i suoi nemici gli Atridi e Odisseo e lo farebbe se non si interponesse la dea Atena la quale lo ferma o per meglio dire gli confonde la mente cosicché Aiace invece di aggredire i suoi nemici e ucciderli come voleva piomba addosso a una mandria di animali, di pecore e di buoi e quando poi torna in sé non sopporta questa umiliazione e decide di uccidersi decide di uccidersi prima di farlo cerca di depistare la moglie Tecmessa la moglie concubina diciamo Tecmessa e i suoi uomini, i suoi soldati e poi rimasto solo si getta sulla spada e si uccide e con questo finisce la parte dinamica del dramma poi c'è tutta una seconda parte in cui alcuni nemici di Aiace cercano di impedire la sepoltura del corpo e invece Teucro, il fratellastro di Aiace, insiste e si oppone agli atridi e con l'aiuto di Odisseo poi alla fine lo seppellisce, seppellisce questo corpo quindi la trama come vedete è piuttosto semplice ci vogliono pochi minuti a esporla il dramma è uno dei più belli, più intensi, più profondi che siano stati prodotti nel mondo antico è veramente una vetta di arte e di poesia è una storia di un eroe solitario tutti gli eroi sono solitari naturalmente al loro modo ma Aiace è solitario in modo particolare è isolato ha tutti contro non solo i nemici naturali che sono i troiani ma anche i suoi, i suoi stessi compatrioti sono contro di lui e soprattutto lui è in odio agli dèi lui è odiato da tutti perché gli dèi lo vogliono umiliare lo vogliono distruggere e questo fa di lui un personaggio un personaggio diverso ecco da tutti gli altri eroi anche giganteschi anche isolati della tragedia greca ma secondo me prima dicevamo il senso del dramma ecco il senso del dramma qual è? io ritengo che Aiace non sia isolato solo perché non ha nessuno dalla sua parte tranne Tecnessa e i suoi uomini naturalmente ma insomma non contano anche perché non lo capiscono sono lontani da lui non arrivano al cuore del dramma che lui attraversa ma Aiace è isolato anche perché sempre a mio parere naturalmente è un eroe fuori dal tempo e fuori dal contesto anche in Omero Aiace è fuori dal contesto perché anche in Omero viene rappresentato come un eroe artaico come un eroe gigantesco fuori misura fuori luogo ecco e in Sofocle ancora di più ecco voi sapete che circa un secolo fa gli antropologi americani si misero a parlare della civiltà della colpa della civiltà della vergogna la civiltà della vergogna sarebbe la civiltà pagana e quella della colpa la civiltà cristiana ma anche all'interno della cultura pagana c'è una fase della vergogna e c'è una fase della colpa la fase della vergogna è quella omerica della colpa e quella invece della tragedia naturalmente colpa e vergogna in parte si sovrappongono ma non del tutto perché la vergogna è diciamo copre uno spettro più ampio perché ci sono delle cose che non costituiscono colpa ma costituiscono vergogna e secondo me succede proprio questo nella Iace noi abbiamo un eroe della vergogna della civiltà della vergogna e si trova sbattuto in una società della colpa in cui lui non si orienta lui non riesce a capacitarsi di come in questo mondo si possa precipitare nella vergogna e come dire e riparare a questa vergogna per lui è inconcepibile quindi non resta altro che la morte resta semplicemente la soppressione la soppressione di sé e questo si vede questa differenza tra vergogna e colpa si vede direi anche nel commento che i personaggi fanno alla sortita notturna di Iace perché gli amici di Iace i soldati di Iace si preoccupano perché Iace cercando di uccidere i capi dell'esercito ha commesso alto tradimento tentato omicidio e quindi hanno paura che Iace venga giudicato e mandato a morte lapidato ecco di questi aspetti Iace non si cura minimamente quello che a lui importa è altro è il fatto che lui abbia mancato il suo obiettivo che si sia coperto di vergogna che i nemici rideranno di lui è il suo problema i nemici rideranno di lui quindi ecco per sintetizzare poi ora passo la parola al maestro Luca Micheletti ma per magari poi riprenderla ma il senso del tram secondo me è proprio questo cioè l'uomo che fa parte di un'altra mentalità che viene che si trova invece a interagire con soggetti che ragionano in altro modo secondo una civiltà che non è più di vergogna ma è di colpa